Rufa propone un modello formativo sicuramente attento, alle esigenze degli studenti, esigenze che sono creative ma anche formative. Consigliamo di intraprendere un percorso che possa dare adito di accedere direttamente alla prova di ammissione con una consapevolezza su quello che si offre. Quindi scegliere Rufa significa tenere in considerazione se stessi, le proprie motivazioni, le proprie attitudini e scegliere un'accademia che possa corrispondere a questo. Un'accademia che mette in contatto gli studenti con il mondo del lavoro, con le realtà professionali, con le realtà culturali in continua espansione. Rufa dà la possibilità, forse rispetto alle altre università, questo è il vero punto di forza, dà un approccio pluridisciplinare, un approccio che consente agli studenti e le studentesse di studiare materie e ambiti anche diversi dal proprio. Questo è un aspetto. L'altro è quello in relazione alle possibilità di ampliamento, di arricchimento del percorso formativo, l'internazionalizzazione con l'Erasmus, la possibilità di partecipare direttamente attività professionali con i propri docenti, ma anche con professionisti che coinvolgono direttamente loro. Quindi il modello, ecco, riassumendo attento a queste esigenze, esigenze formative, esigenze professionalizzanti, esigenze contemporanee, quindi aprirsi a un settore che è fortemente internazionale. Grazie.